L'ultima speranza è il ricorso al TAR. Sarà proposto per tutte le cinque sezioni distaccate del Tribunale di Trani che dal 13 settembre chiuderanno, come prevede il decreto firmato dal Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Gli avvocati sono in stato di agitazione. La riforma, dicono, non ha tenuto conto delle specificità del territorio. Le deroghe in favore di alcune sedi, come Molfette e Andria, per le cause pendenti, alimentano più di qualche polemica. Impugneremo l'articolo 8, chiederemo una rimissione degli atti della Corte Costituzionale, proprio per l'esempio che le facevo prima del Tribunale di Barletta, che non ha avuto la possibilità di ottenere mantenimento per mancanza di requisito. Poi vedremo città per città in quale modo è possibile. Il ricorso al TAR lo ha presentato anche il Comune di Canosa di Puglia. Dopo la quasi chiusura dell'ospedale, dice il Sindaco, si tratta di un altro scippo ai danni dei cittadini. Perché Andria per 5 anni o Molfetta per 2? Che significano? Se ci sono carichi pendenti, perché il territorio di Canosa, Minervini e Spinazzola, ancora una volta non deve avere un riconoscimento? C'è, funziona, non costa niente di più. Questa è l'altra storia. Situazione paradossale quella degli esercizi e rivendite di tabacchi all'interno delle sedi distaccate che chiudono la Confesercenti Protesta. C'è incertezza sul futuro di queste attività. A Barletta il bar era stato da poco ristrutturato. Dott'ora non abbiamo ancora una comunicazione, né ufficiale né ufficiosa, sia per la chiusura che per qualche altra situazione. Non sapremo cosa verrà qui, non sapremo niente per ora. Quindi teoricamente da domani poi si chiude? Bravissimo, sì. Proprio così. Dal 13 settembre. Grazie. 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 Grazie.